Il versetto Coranico Abbiamo visto che la gente di Quraysh ci sono riunite su una idea, su una decisione di uccidere il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam E con questo finiscono la storia dell'Islam e del Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e dei musulmani Loro hanno deciso, ci sono preparati e sono andati addirittura alla pratica di questa decisione Di quel complotto che hanno voluto fare Pensavano che funziona Loro hanno scelto le ragazze giovani, hanno messo le armi, le spade Ci sono riunite davanti alla camera, la casa dove dorme il Nabi sallallahu alaihi wa sallam Per uccidere Però, come abbiamo visto e come dimostra questo versetto Loro hanno voluto Loro hanno calcolato Loro hanno deciso Però hanno dimenticato che c'è Allah Che c'è Dio E per questo noi sappiamo questa parola Se Allah subhanahu wa ta'ala non ha voluto qualcosa Non sarà mai Se Allah ha voluto invece qualcosa Nessuno può impedirla Tanti versetti del Corano Parlano di questo concetto Anche quel hadith Hadith famoso Dil Nabi sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi bin Abbas Che un giovane era Era un giovane Suo cugino Profeta un giorno L'ha messo dietro di lui L'ha fatto salire nel suo animale E ha cominciato a Far imparare delle parole Cosa ha detto il Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ha detto O giovane Inni mu'allimuka kalimat Ti impararò Alcune parole E che parole erano Erano le grandi regole Di questa fede islamica Di questa religione Cos'è che ha detto il Nabi sallallahu alaihi wa sallam Protega Allah Allah Ti proteggerà Sempre Sarà con Allah Allah sarà con te sempre Ricordati di Allah In momenti di felicità E di benessere Si ricorderà di te Nei momenti di difficoltà E di prove Poi alla fine L'ha detto Guarda Si tutta la gente Si tutta la gente Si incontrano Per farti un male Non possono mai farlo Se non ha voluto Allah E se tutta la gente Si incontra Per darti un bene Non possono farlo Se Allah Non ha deciso Non ha voluto Questa è la fede islamica Questa è la fede islamica Mi ripeto Questo Un hadith Se noi Tutti i giorni Tutti i derz Tutti i khutba Lo facciamo Merita Perché Sono Le fondamenti Le regole Le basi Di questa religione Di questa fede Islamica Che tanti Non la capiscono bene In modo profondo In modo corretto In modo giusto Guardati bene Oh giovane Ti faccio imparare Alcune parole Protegghi Allah Allah ti proteggerà Sempre Stai con Allah Sarà con Allah Prendere la sua strada Lui sarà con te Ricordati di Allah Nei momenti di benessere Si ricorderà di te Nei momenti di difficoltà E di prof Poi concludi Il Nabi sallallahu alaihi wa sallam Dice Wa'alam Sai bene Se tutta la gente Si incontrano Per farti un male Non possono farlo Se Allah Non ha deciso Non ha voluto E sai Se tutta la gente Si incontrano Per darti un bene Non possono farlo Se Allah Non ha voluto Non ha deciso Era un modo di dire Ecco Questo è il tutto Questo è il tutto Vuol dire Non c'è più di questo Queste sono le ultime parole Questo è il burro Degli islami Credetemi fratelli Questo hadith Merita di riflettere bene E sulle sue parole E sulle sue nozioni Se uno capisce bene Questo hadith Ha capito Una grande parte Dell'islam Quindi Se la gente Ha voluto farti un male Prima di tutto Vedi Se tu sei corretto con Allah Allora Prova Che fanno Se Allah Non ha voluto Questo Non sarà mai Abbiamo la parola Inshallah Se Allah Ha voluto Faccerò questo Riceverò questo Avrò questo Inshallah Se Allah Ha voluto Se Allah Non ha voluto Non può mai averlo Non si può dire Avrò questo Garantisco questo Ricevo questo Faccerò questo Sempre Anche era questa Una storia Dove Allah Subhanahu wa ta'ala Ha detto Il suo profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam In sur Il kaff Non dici mai Qualcosa Che la faccerò Domani Se Allah Non ha voluto Quindi Da dire Sempre Inshallah Adesso Adesso uno Ti viene E ti dice Io ti faccerò Il male Può dirlo Può essere anche Un cattivo Può essere Qualcuno Pericoloso Però se Allah Non ha voluto Niente Ti arriverà Niente Ne succederà E abbiamo Qua L'esempio Quraish Ha portato Questi giovani Forti Con le loro Arme Erano Le spade Scelte E hanno Fatto Il tutto E hanno Come si dice Hanno circondato La casa Del Nabi Alayhi wa sallam Quindi Sono già Entrati Nella pratica Delle loro Decisioni Del loro Comploto Però Allah Subhanahu wa ta'ala Ha protetto Il suo profeta Alayhi wa sallam La stessa cosa Noi ad esempio Nella fede islamica Cosa che crediamo Per Gesù Hanno voluto Metterlo Sul Crocifice Hanno voluto Ucciderlo Hanno voluto Farlo il male Allah Subhanahu wa ta'ala L'ha preso Da lui Perché Allah Subhanahu wa ta'ala Ama Sui Credenti Qui non stiamo parlando Di credenti solo Parliamo di La prescelta Di persone Che sono I profeti I messaggeri E non c'è Meglio di loro E non c'è Persone Che hanno più valori Da loro Ad Allah L'Altissimo Subhanahu wa ta'ala Stessa cosa Per Ibrahim Ibrahim L'hanno buttato Nel fuoco Namrud Ha buttato Ibrahim Guardate Se Allah Vuole qualcosa Come sarà Noi sappiamo Che E per questo Sapenti musulmani Hanno preso Questo Aspetto E l'hanno discusso In modo Filosofico Hanno detto Allora Sababu Musabab Non so Adesso Sono due termini Nella filosofia islamica La causa Il causato E la conseguenza Come funziona? Chi non crede Dici Fai questo Tu avrai quello D'accordo? Vuol dire Qualcuno è malato Di questa malattia Lui soffre Di questo problema Darlo Questa medicina Che cura Questa malattia E abbiamo Il risultato No? Questa è la logica Tu Fai il fuoco E brucerà Tu fai questo E vedrà No? Questa è una logica Materiale Però questa logica Materiale Stessa Anche a livello Scientifico Non funziona Sempre Tante volte Ci informano Al meteo Che sarà questo E sarà questo Con calcoli Precisi Poi non sarà Quello Come mai? Cosa c'è? Calcolo sbagliato Cosa è che è cambiato? Una domanda È che la facciamo Noi anche Però i sapienti Musulmani Parlano Che c'è questo Siamo d'accordo Però c'è un'altra Logica C'è la volontà Però solo se E devi andare E devi andare Del medico E devi andare Del specialista Però la speranza Da chi? Tu la prendi Da chi? La guarigione Da chi viene? Dall'Altissimo Dobbiamo essere Chiari su questo Questa è la fede islamica Quindi Allah Subhanahu wa ta'ala Ha detto Al fuoco Di essere Freddo E pace Per Ibrahim Alayhi salam Il fuoco Di solito Se uno Lo buttiamo Nel fuoco Non è che andrà Per fare Come si dice Una doccia O una La spiaggia Però per Ibrahim Allah L'Altissimo Ha ordinato Al fuoco Di non farlo Il male Tra parentesi Abbiamo anche Un'altra regola Noi nella fede islamica I shahidi I martiri I profeti La terra Non ha il diritto Di mangiarle Quindi il loro corpo Rimane Intatto Come ha voluto Allah Subhanahu wa ta'ala Questo è un valore Data Dalla Subhanahu wa ta'ala Per I profeti Per i messaggeri E per shahidi Che hanno un grado Molto alto La terra La terra di solito Mangia Noi mettiamo uno Si puliamo uno Nel cimitero Nella tomba E dopo alcuni Mesi Troviamo che È finito È passato Non più Non c'è più il corpo La terra ha preso il tutto Mentre per questa categoria Da gente La terra Non può fare Lo stesso effetto Con l'ordine Da chi? Dalla Subhanahu wa ta'ala Quindi Ahmet Questo è chiaro Se tutta la gente Tutta la gente Ti arrivano Ti dicono Ti facciamo il male Va bene Fatti Se Allah ha voluto Ho voluto Non vuol dire questo Che tu non devi Prendere le tue misure Devi prendere le tue misure Però La tua fede Ti dice Questi Non possono Farti nulla Se Allah Non ha voluto Non è che uno Vai dal bricolo E si Si presenta E dici Ecco Io adesso voglio So che Allah Non ha voluto Questo discorso Non è valido Gli hanno voluto Il Qubiyah E dico Uno non deve andare E buttarsi Nel pericolo E poi dice Allah Subhanahu wa ta'ala Mi proteggerà Mi proteggerà Non è valido questo Allah non ti ha chiamato Di fare questo Allah ti ha chiesto Di prendere le misure Di non buttarsi Nel male Di non andare Nel pericolo Però Avere sempre La fede In lui Se Allah Subhanahu wa ta'ala Ti ha voluto Un male Nessuno Può impedirlo Per questo C'è una Bellissima parola In arabo Si dice La yenfa'u Hadarun Ma'a La yenfa'u Hadarun Ma'a Qadari Vuol dire Se ha arrivato Il destino Di Allah Non serve Nulla Di Le procussioni Non servono Se tu hai preso Questa misura E questa E queste E quelle Ci sono certe persone Ad esempio Hanno paura Della malattia Hanno paura Della malattia E vivono con questo Come ad esempio Adesso citiamo Il caso Di Michael Jackson A un certo momento Viveva con cosa? Con un masco Per non avere L'aria Come tutti Per Non essere toccato Di Certi malattie Di certi virus Di certi questo Di certi altro Esagerato Nel senso Noi andiamo A fare il hajj O vai tu in Africa E vedi la gente Come vivono Poi non sono toccati Di malattie No? Quei bambini Che sono In Africa Tu vai a vedere Come vivono Sono protetti Di Allah Subhanahu wa ta'ala Malgrado che A livello Materiale Vivano Con tutte le Condizioni Che portano I malattie E forse Saranno più sereni Da noi Subhanahu wa ta'ala Chi ha voluto Questo? Allah Subhanahu wa ta'ala Non lo so Se è chiaro Questo Non è chiaro Se non approfondisco Ancora Quindi Allah Subhanahu wa ta'ala Ha detto Al fuoco Ha ordinato Ha ordinato Al fuoco Per diventare Pace E freddo Per Ibrahima Aleyhissalatu wa ta'ala Namruda Ha voluto Ha Si è andato Per fare il male A Ibrahima Però ha dimenticato Che Lui è protetto Di Allah Subhanahu wa ta'ala Lui Come Yunus Aleyhissalam E questo Il miglior Doa Conto uno Toccato Di una prova Cosa deve dire? Come ha detto Il Nabis Deve invocare Allah Con Dua Di Yunus Aleyhissalam Cos'era Dua Di Yunus Subhanaka Rabbi La Ilaha Si è andato Subhanaka Inni Conto Min Al Zalimine Era Questo Il Dua Di Yunus E con Questo Stato Salvat Aleyhissalam La Ilaha La Ant Ripeto Il Dua La Ilaha La Ant Subhanaka La Ilaha La Ant Gloriate Subhanaka Inni Conto Min Al Zalimine Ero Injusto Con Questo Allah Subhanaka Al Salvat Yunus Aleyhissalam Quindi La Gente Di Quraish Ano Voluto Ano Calculato Wayam Curun Wayam Curullah Wallahu Khayru Lill Ma Kilim Calculo Di Allah Più Perfecto Più Giusto E Più Forte E Più Forte Nessuno Può Come si dice Combattere Dio Nessuno Nessuno Non può Non può Vai contro Cosa Vai contro La Volontà Di Allah Vai Contro La Sua Decisione Impossibile Allah Subhanahu Atta'ala Qui Ha Deciso Di Proteggere Il Suo Profeta Il Suo Missaggero Sallallahu Alayhi Assalam Sono andati Come ho detto prima Si sono trovati davanti la casa Hanno circondato la casa del profeta Con le loro spade Aspettando un momento Per entrare e ucciderlo Loro hanno cercato di farlo nascosto Nel mezzo delle notti Allah Azzawajal Ha ordinato Ha ordinato Al suo profeta Muhammad Sallallahu Di non dormire Quella notte A casa Ha ordinato Il Suo profeta Di andare Era un ordine Allas Allah Subhanahu wa ta'ala Sal tutto E nessuno Può avere la scienza Dell'Allah Subhanahu wa ta'ala Per questo Bella una parola Che noi diciamo sempre Un fratello Mi ha chiamato Questi giorni Per chiedere Il significato Di la parola Allahu A'la Cosa vuol dire Allahu A'la Mi approfito ancora Di spiegarla Questa Che questa frase E questo modo Di dire Ha due significati O si usa In due Momenti Si usa Per dire Che io Non so niente Del futuro Solo Allah Sa E questo Un rispetto Allahu Cosa fai domani Allahu Ho previsto Di fare questo E questo E questo Inshallah Però Allahu Non so La seconda Si usa Soprattutto Nell'ambito Della scienza I grandi Sapienti Dell'Islam Quando dico Grande Grande Non è che uno Ho studiato Uno o due Libri Ho ascoltato Una o due Conferenze I grandi I grandi Quelli che sono pieni Sempre Finiscano Le loro scienze Quando insegnano Quando rispondono Dicendo sempre Allah Dico questo Però Solo Allah Che sa Con questo Con questo Si mette Che Io sono Una persona Questi sono I miei Limiti Io ho cercato Studiato Studiato Però Non si sa Forse C'è qualcosa Che io Io non Lo sa La modestia Qua Il rispetto Per questo Musa Aleyhissela Ha avuto Una lezione Dura Una prova Dura Allah Lui ha mandato Alla fine Del mondo Quando uno Di figli Israele L'ha chiesto Una domanda E Musa Ha risposto Lui ha chiesto A Musa C'è qualcuno Che ha più scienza Di te Ha detto Non c'è nessuno Che ha più scienza Di me Lui Si intende Delle persone E allora Per questo Allah Subhanahu wa ta'ala Li ha mandato Alla fine Del mondo Li ha mandato Di qualcuno Per farlo Imparare Che la sua Scienza E niente Davanti alla scienza Di Allah Li ha fatto Mandare Per imparare Una lezione Wa fawqa Kullu Di ilmi Ali Soprattutto Chi hanno scienza C'è chi ha La scienza Che vuol dire Allah Subhanahu wa ta'ala E questo è un versetto Coranico Qualcuno Ha i mufti Qualcuno Ha i grandi Sapienti Alam C'è una scienza Più della sua Quindi La formula Di educazione Di rispetto Quando uno Finisce una cosa Dice Allahu alam Io risposto Con quello che so Però Allahu alam Questi sono I grandi Sapienti Mentre Quelli che sono Ignoranti Che non hanno Scienza Ti dicono Una cosa Confermando Che questo È il corretto Il giusto Cioè Questa è la verità Assoluta No Questa è l'ignoranza La scienza La vera scienza Sempre porta La persona Di avere Questa modestia E anche Di finire La risposta Con Wallahu A'lam Allora Allah subhanahu wa ta'ala Ha ordinato Il suo profeta Alayhi salatu wa salam Di lasciare Mekra È deciso È deciso Quindi il profeta Sallalaihi salatu wa salam Non ha che a Seguire L'ordine Sottomettere All'ordine D'Allah subhanahu wa ta'ala Per fare Questo viaggio Chi l'hanno fatto Prima di lui Tutti i profeti Tutti i messaggeri Quindi questo È un punto comune Sapete che Tutti i profeti I messaggeri Hanno fatto La migrazione In Isabel Sono tutti Migrati E la migrazione È un Un onore È una Scelta È una strada È una ricchezza Soprattutto Subhanahu wa ta'ala Per questo Noi diciamo Siamo tutti Migrati Siamo tutti In questa dunia Anche siamo Immigrati In questa dunia Tutti siamo Migrati E quindi Allah subhanahu wa ta'ala Ha ordinato Il suo profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Noi adesso Cominciamo a vedere Questo percorso Di hijera E qua Già Vi metto Le due grandi linee Che vanno insieme Allora il profeta Il profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Durante tutto il percorso Di hijera Si è dimostrato Con una fede Grandissima E una speranza E una speranza Enorme Di un appoggio Su Allah Subhanahu wa ta'ala Assoluto Con questo Questa è la prima linea Con questo Vediamo anche La seconda linea Che il profeta Muhammad Alaihi wa sallam Ha preparato Il viaggio Della hijera Con un modo Si dico perfetto Poco Più di perfetto Non so Se ci sono termini E la perfezione Totale Ha misurato Tutti le passe Ha calcolato Tutti le passe E ha fatto Una strategia Un modo Ben preparato Nel suo percorso E questo è l'islam Questo è l'islam Certi Quando tu parli Fratello Perché non fai questo Questo Lascia Allah ci aiuta Allah ci aiuta D'accordo Allah ci aiuta D'accordo D'accordo Però Allah ti ha detto Anche Devi lavorare E pensare bene In modo corretto In modo giusto In modo perfetto Prendi L'esbato Questa è la parola Prendi L'esbato Quindi il Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Prima di tutto Ha saputo Con chi Viaggerà Ha Comparato Un po' Prima Il mezzo Del viaggio Il suo E del suo Compagnatore D'accordo Ha nascosto Le due camelle Nella casa Di Abu Bakr La persona La più fidabile Al profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Non ha parlato Con nessuno La noti Della hijra Della migrazione Ha ordinato Ali Radhiallahu anha A dormire Il suo posto E a coprirsi Del suo Il vestito Anche Ha dato L'impressione A Poray Che lui Sta dormendo Durmentando Ancora lì Poi Si è andato Alla casa Di Abu Bakr Non è uscito Della porta Normale Dove si esce Uscito Di un'altra Porta Poi Si è andato Da un altro Posto La gente Normalmente Quando vanno A Medina Lui è andato Alla direzione Contraria Per andare A Belenzona Lui è andato A Chiasso Medina Si trova Nel nord Lui è andato Nel sud Direzione Degli Ameri No Poi È programmato Il tutto Ha lasciato Il figlio Di Abu Bakr Che lui Porta Le 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 Cosa c'è Mecca Ha Ha ordinato Quello Il pastore Che lavora Da Abu Bakr Che porta Le gli suoi agnelli per non lasciare le tracce del loro passo di lui di Abu Bakr e poi anche di questo gli dà al lato il mangiare ha ordinato la figlia di Abu Bakr di portare anche le informazioni ha scelto una guida che non era musulmano navigatore era che non c'è nessuno come lui che conosce le strade e si chiama Abdullah ibn Abi Urayqat e si dice nel hadith del Bukhari mi piace tanto questa parola uno che non c'è nessuno come lui il navigatore il più perfezionato nel mondo a quel momento lì uno che conosce tutta la geografia tutti gli stradi tutti gli stradini tutti gli passi tutto conosce come come uno o un scanner conosce tutto il diserto conosce tutti i paesi conosce tutte le strade e tutte le vie questo uomo come qui il profeta sallallahu alaihi wa sallam li ha scelto per garantire un viaggio per garantire che lui sarà salvo malgrado che lui sa che Allah è con lui è sicuro su questo e questo questo è il bello dell'Islam se uno certi hanno studiato certi anche quelli che insegnano nelle accademie di militare eccetera hanno studiato hanno studiato la migrazione del Nabi alaihi wa sallam cosa che hanno trovato hanno trovato come un miracolo un miracolo dentro il miracolo la migrazione stessa è un miracolo tutto è un miracolo come ha voluto Allah subhanahu wa ta'ala ma cosa che hanno trovato dentro quel miracolo divino hanno trovato il miracolo della precisione che ha fatto Muhammad alaihi wa sallam nella sua ejera per questo lui dice alaihi wa sallam sapete perché uno di cose che ha portato i musulmani di esso indietro oggi sapete cosa la mancanza della perfezione tu dai un lavoro a qualcuno tu lo fai non è che non te lo fai però sempre gli lascia qualcosa tu hai fatto la pettura bene e tutto ti lascia un posto e dice ah fa niente il fratello fa niente questo non c'è problema può farlo così questo fa niente e l'altro fa niente e l'altra cosa fa niente e tutto fa niente e poi alla fine non c'è niente e questo e questo mentre l'Islam come ha detto il Nabi sallallahu alaihi wa sallam inna allaha yuhibbu idha amila ahada com amalan an yutqinam allah vuole questo allah guardate allah ama quanto qualcuno fa un lavoro di perfezionarlo di farlo bene oggi tutto il contrario prima i musulmani hanno avanzato perché avevano questo e perché avevano questo perché lo fanno come un frutto di una fede completa perché lo fanno come un'adorazione vuole che allah ti ama allah ama quando fai qualcosa di farla in modo perfetto quindi il Nabi sallallahu alaihi wa sallam tutto il percorso di hijra era allahu akbar era un miracolo ha scelto di nascondere questo ghar ha scelto di andare in quella direzione contraria ha scelto la guida ha scelto gli animali ha scelto l'orario ha scelto l'equip che era con lui ha scelto tutto alaihi wa sallatu alaihi wa sallam ha fatto tutto con precisione malgrado che lui era sicuro che allah lo appoggerà che allah lo proteggerà e che allah subhanahu wa ta'ala lo aiuterà questo senza discutere e noi vediamo in certi passaggi come quella frase che ha detto Abu Bakr quando Abu Bakr ha detto se uno guarda solo sotto vuol dire al livello di suoi piedi se uno va un po' sotto ci scopri il nabiyo sallallahu alaihi wa sallam dice ya Abu Bakr ya Abu Bakr guardate questo messaggio ya Abu Bakr ma valok bi thneini allahu tharithuhum cosa pensa a due che il loro terzo è chi? e allah subhanahu wa ta'ala che fede aveva il nabiyo sallallahu alaihi wa sallam non solo che aveva vive con questa fede e passa questi momenti con la forza di questa fede qui si dimostra la fede perché la fede non solo una parola ashhado allah ilah allah so che allah è ma' però deve viverla deve metterla in pratica quindi il nabiyo sallallahu alaihi wa sallam erano davanti erano davanti la grotta e Abu Bakr non dice il nabiyo era così spaventato ha paura non per lui per l'islam se si trovano finito l'islam il nabiyo sallallahu alaihi wa sallam gli dava un messaggio di un tranquillizzante un grande tranquillizzante ma siamo da soli c'è Allah con noi malgrado tutto questo malgrado tutto questo ha calcolato tutto in modo perfetto io ho dimenticato prima che il nabiyo sallallahu alaihi wa sallam quando è uscito da sua casa ha trovato quelli soldati quelle baltaghi di 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 qureish con le loro spade e del miracolo uscito ha messo la sabbia la terra sulla loro terra sulle loro tette tutti passando un uomo ha trovato questa gente di qureish questi soldati stanno aspettando come ha detto cosa fate qua stiamo aspettando Mohammed che dorme stiamo aspettando che lui esce per la preghiera e noi togliamo la testa ha detto Mohammed si è andato ma vedete vi ha messo anche la terra la terra sulle testa come mai ma noi stiamo guardando e lui lì chi dorme si è detto va andate trovare vedete cercate verificate cosa che hanno scoperto era Ali hanno cominciato qui in quel momento a pulire la testa della terra si sono svegliati hanno scoperto che Mohammed si è andato Allah l'ha salvato sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi hanno cominciato con folie corri destra sinistra hanno fatto come si dice un alert generale e alla fine hanno detto trovate Mohammed vivo o morto chi lo trova avrà cento cavalli o cento camelle che era una cosa enorme e Allah subhanahu alaihi ha salvato il suo profeta Mohammed sallallahu alaihi sallallahu alaihi poi è rimasto a un posto aspettava che le cose si calmano tutto era calcolato in conclusione quello che dobbiamo ottenere di questa storia vedete che le due cose vanno insieme si conta su Allah questo tavoccol uno si appoggia prima di tutto su Allah azza wa jel perché si da solo non può fare nulla si da solo Allah lo abbandonerà lo lascerà la sua anima e per questo il Nabi sallallahu alaihi faceva questo dua non mi lascia non mi abbandona alla mia anima neanche un un battito di occhio anche un minimo del battito vuol dire c'è qualcosa di minimo adesso da vedere questo da verificare per chiedere Allah di non abbandonarsi con tutto questo il Nabi sallallahu alaihi sallam sapeva che Allah è con lui lui gli ha ordinato di fare la hijra quindi sapeva che lui lo accompagnerà fino alla fine salva malgrado questo ha fatto tutto in modo perfetto in modo ben risolato è questo l'islam perché questo modello davanti noi come ha detto Aisha r.a. era il Rasul sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi il quran che cammina sulla terra è questo se vogliamo vedere l'islam ecco il modello ecco l'esempio del Nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi uno ad esempio se vuole passare un esame se vuole fare arrivare da fuori impegnati però conta su Allah prima di tutto non pensa che il tuo impegno ti porterà non pensa che il tuo impegno ti salverà non pensa che il tuo impegno è da solo ti porterà dei frutti senza l'appoggio senza l'aiuto di Allah non può fare nulla ma debiamo debiamo anche saper prendere le misure e lavorare in modo corretto in modo preciso come ci ha insegnato il Nabi alaihi sallallahu alaihi in questa storia